Allora, sto registrando l'ultima parte della tubercolosi, abbiamo spiegato i test diagnostici, a quanto pare stavo approfondendo la questione con delle informazioni prese dall'esame di microclinica ed eravamo arrivati all'analisi micrematoscopica del liquido pleurico con pleurocentesi, poi a livello della diagnosi di tubercolosi intestinale, tra lo studio sul liquido ascitico, l'esame chimico fisico, poi si usa il test sieroascite albumina per gradiente, si valuta anche la denosina deaminata, quindi ci sono dei valori importanti da tenere in considerazione. Dopodiché c'è da parlare della terapia, ma quella la leggiamo direttamente qua perché è spiegata da Dio. La chemioterapia antibiotica di combinazione antitubercolare, oltre ad avere sensibilmente migliorato la prognosi dei pazienti, ha provocato una diminuzione della contagiosità con indisputibili vantaggi socio-economici, sia perché viene preservata la salute collettiva, sia perché è ridotta la durata dell'ospedalizzazione dei pazienti. La popolazione micobatterica, infettante e costituita da vaccini in diverse fasi elettricative, nel materiale caseoso delle caverne tubercolari, grazie all'ambiente aerofilo, si trova la maggior parte dei bacilli in rapida crescita, mentre nei macrofagi, nelle zone con caseum particolarmente denso, i bacilli si moltificano lentamente o entrano in fase di latenza. I farmaci antitubercolari devono pertanto essere in grado di aggredire i micobatteri in ambiente intra- ed extracellulare e il razionale terapeutico consiste nell'associazione di più farmaci al fine di ridurre il risultato di insorgenza di resistenza farmacologica. I farmaci antitubercolari sono i seguenti, quelli di prima scelta, isoniazide, rifampicina, pirazinamide, etambutolo, streptomicina. Gli antitubercolari di seconda scelta, amicacina, canamicina, capreomicina, rifabutina, ciprofloxacina, levocloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, macrolidi, azitromicina, claritromicina, claritromicina, inezolid, amoxicilina, acido clavulanico, etionamide, cicloserina, passacido para-ammino salicilico e bequalina. Andando a noi, allora, in linea di massima e in assenza di resistenza farmacologica, la terapia della tubercolosi consiste nell'associazione di tre o più farmaci antitubercolari, isoniazide, rifampicina, pirazinamide, più o meno etambutolo, quindi quelli di prima scelta, per due mesi. Quale terapia di attacco, seguita da una di mantenimento a due farmaci, isoniazide, rifampicina, la cui durata può durare da 4 mesi nelle forme polmonari fino a 10 mesi nelle forme extrapolmonari gravi, come la meningite tubercolare. In caso di infezione con tubercolosis farmacoresistenti, la terapia deve essere adattata sulla base dell'antibiogramma e la durata di questa terapia, in questo caso può arrivare a 18-24 mesi. In caso di tubercolosi in gravidanza bisogna evitare la streptomicina per la neurotossicità fetale, la pirazinamide, diciamo, ha dei dati di sicurezza in gravidanza insufficienti, e quindi bisogna essere attenti a questi due farmaci, streptomicina, pirazinamide, e la durata della terapia deve essere almeno di 9 mesi. In soggetti invece HIV positivi con deficit immunitario e affetti da tubercolosi, la durata del trattamento può essere superiore a quella degli immunocompetenti. Inoltre, in caso di contemporanea assunzione di terapia antiretrovirale, comprendente inibitori delle proteasi, considerata l'interazione di questi farmaci con la rifampicina, in questo caso la rifampicina deve essere sostituita con rifabutina. I farmaci antinfiammatori steroidei sono indicati nelle fasi iniziali delle forme tubercolari con rilevanza essudativa, in quanto riducono gli esiti cicatriziali. Il trattamento in regime ospedaliero è indicato in caso di malattia estesa, tubercolare o meningite, compromissione generale, immunocompromissione, spettorato positivo, presenza o sospetto di resistenza a farmaci antitubercolari. In caso di forme di resistenza o scarsa compliance terapeutica del paziente, bisogna fare il Directly Observed Therapy DOT, quindi un regime di terapia sotto osservazione diretta. In molti paesi la DOT è fondamentale proprio nella fase di attacco. All'inizio del trattamento è opportuno controllare emocrono, emocroma, azotemia, transaminase o ricemia. I controlli ematochimici periodici sono importanti per il giudizio da parte di un centro specialistico di riferimento, ma in linea generale è opportuno sempre misurare uricemia e transaminase o indonesi. Parlando della prevenzione, la chemioprofilassia antitubercolare ha l'obiettivo di prevenire la progressione della patologia in soggetti che presentano un viraggio dell'intradermoreazione, da negativo a positivo, oppure un'intradermoreazione a test di mantù positiva. l'intradermoreazione a test di mantù era chiamato anche chissà line test, line test, era un soprannome a quel test. Line test, sì. Va bene. Nel caso appunto di un viraggio da negativo a positivo o direttamente positivo, in particolare se presentano condizioni che possono determinare riattivazione micobatterica, diabete, immunocompromissione, eccetera, in quel caso è proprio utile la chemioprofilassia. Prima di iniziarla è indispensabile eseguire un esame clinico approfondito, esami necessari per escludere appunto la presenza di forme attive di tubercolosi. La forma preventiva chemioterapica è efficace dal 54% all'88% dei casi, si basa essenzialmente sulla somministrazione di isoniazide per 6 mesi fino a 12 mesi in caso di infezione d'HIV quotidianamente. La somministrazione è controindicata invece per gli epatopatici e per il rischio di epatite fulminante di atrogena. La vaccinazione antitubercolare con il bacillo di calmette Guerin deriva dal ceppo del micobatterium bovis privato di virulenza. Questo vaccino viene eseguito alla nascita in molti paesi in via di sviluppo endemici di tubercolosi, mentre negli industrializzati solo per specifiche categorie di persone esposte al rischio. La somministrazione deve essere preceduta dalla realizzazione di un'introdermoreazione e va limitata solo ai soggetti con cutireazione negativa. La vaccinazione non protegge completamente, ma riduce significativamente la diffusione del processo tubercolare. E quindi con questo finisce il capitolo delle affezioni dell'apparato respiratorio. Le prossime video lezioni saranno sulle affezioni dell'apparato digerente. Infatti qua si comincia con un inquadramento generale sulla diarrea, sulla durata della diarrea che è divisa in acuta, persistente e cronica, ma questa la rivedremo passo passo nelle varie affezioni alimentari e gastrointestinali. Ci vediamo per la prossima video lezione.